Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. Aprono le regioni, viaggiano i turisti e l'indice dei contagio è prossimo alla zero. Ma la normalità non abita ancora nel settore sanitario. Sempre ferme infatti, dopo quasi tre mesi, le visite e ricoverati. Apparenti amici e congiunti è ancora impedito l'accesso negli ospedali, nelle residenze sanitarie e assistenziali o dentro le case di riposo. Una situazione denunciata dalle associazioni Socialismo Diritti Riforme, Fidapa Cagliari, Adiconsum Sardegna, Sinergia Femminile, Tribunale del Malato, Aile Mai Più Sole. Fateci rivedere e abbracciare almeno con lo sguardo. Questo è il loro appello rivolto alla regione. Una situazione giudicata assurda e inconcepibile. Non si comprendono le ragioni di questo blocco, lamentano le associazioni, anche perché gli ammalati, soprattutto gli anziani e i bambini, soffrono particolarmente l'isolamento dalla famiglia. Non si può del resto trascurare il fatto che nei nosocomi, purtroppo, si registrano, come sempre accade, decessi non da coronavirus, senza che i familiari possano essere vicini ai loro cari. Al contesto già complesso e doloroso, si aggiunge la chiusura degli ambulatori e del CUP per le visite e le cure dei malati cronici, perché se il Covid-19 pare in fase di remissione, le altre patologie non hanno smesso di agire, aggravate purtroppo dai mesi di lockdown. La giunta ragionale scarica sul turismo il peso degli errori fatti nella gestione sanitaria nel corso dell'emergenza Covid-19. Lo afferma l'onorevole Gavino Manca, deputato PD alla Camera, secondo cui la scelta di consentire e chiedere al governo che gli spostamenti da e verso l'isola fino al 13 giugno avvengano solo in regime di continuità territoriale, aerea e marittima, è un'ulteriore mazzata alla stagione turistica 2020, ottenuta anche per un eccesso di zelo istituzionale e disponibilità politica da parte del governo nazionale. E, sempre secondo Manca, la verità è che continuiamo a limitare gli accessi, poiché la Sardegna ha un apparato sanitario incapace di reggere l'urto con un'eventuale seconda ondata epidemica portata dai turisti. Il parlamentare si domanda perché, nei mesi del picco dell'epidemia, l'isola sia stata la terz'ultima in Italia per disponibilità di posti in terapia intensiva e dei tamponi eseguiti. La risposta, per l'onorevole, è che il governo regionale, incapace di attrezzare la sanità per l'emergenza, ora scarica le conseguenze sull'economia del turismo, con una anomalia rispetto ad altre regioni italiane, dato che chi decide di venire in Sardegna ha un'incombenza in più. Un errore di prospettiva, aggravato dal pasticcio passaporto sanitario, e dalla fantomatica app che i turisti dovrebbero utilizzare per registrarsi. Si tratta di prospettive farraginose e non chiare, che provocheranno ulteriori ostacoli nella scelta dell'isola, come meta-vacanze, conclude Manca. Occorre approvare celermente il progetto di legge per arrivare alla realizzazione di una infrastruttura di importanza strategica per la crescita del territorio. Così, l'ex sindaco di Alghero, Marco Tedde, commenta il progetto di legge proposto dai capigruppo di maggioranza, che nel prorogare di sei mesi il piano casa interpreta autenticamente alcune norme del piano paesaggistico regionale, al fine di consentire la realizzazione dell'asse viario Sassere-Alghero a quattro corsie. Una proposta normativa spinta da Tedde e dal professor Mario Tocci fin dalla scorsa legislatura, basata su una sentenza del Tar Sardegna, dando una soluzione al confronto Regione Mibact per sbloccare la realizzazione di questa opera pubblica strategica. Se è vero che una lettura superficiale del PPR parrebbe blocare la realizzazione dell'infrastruttura, sottolinea Tedde, è altrettanto vero che occorre un diverso metro interpretativo del PPR e del Codice Urbani. Questa interpretazione di sistema fu sottoposta ai rappresentanti istituzionali del territorio anche nell'incontro pubblico svoltosi lo scorso gennaio presso il Teatro Civico di Alghero. La proposta interpretativa, ricorda Tedde, fu anche sottoposta al presidente Pigliaro nel 2018, ma senza successo. L'ex sindaco sottolinea che col Codice Urbani la Regione ha facoltà di individuare unilateralmente le misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesagistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate. Questa interpretazione porrebbe nel nulla il parere negativo della Commissione interministeriale Via e l'ultimo espresso da Franceschini. E' quindi indispensabile, conclude l'esponente di Forza Italia, che il Consiglio regionale faccia propria questa interpretazione del PPR e si confronti con determinazione col ministro che ostacola la realizzazione della strada, senza dimenticare le motivazioni legate alla pericolosità della vecchia strada e al notevole tributo di vite umane pagate dal territorio. PD per la cultura. A Sassari urge un intervento drastico per risollevare il comparto creativo e esanime a causa dell'emergenza Covid-19. Dopo la recente interpellanza di Mariolino Andrea, anche il Partito Democratico prova a smuovere le acque con una mozione indirizzata alla Giunta Campus e all'assessore di competenza Rosanna Arru. Trovare risorse economiche, scovare spazi idonei per la performance, raggiungere maggior numero di beneficiari. Questi i punti che emergono con evidenza nel documento DEM, il cui primo firmatario è Giuseppe Mascia, e che dietro il titolo Patto per la cultura suggeriscono quasi una rivoluzione nell'approccio alla materia, accantonando prassi ormai sterili. Le buone intenzioni si arrestano però davanti alla previsione di Cassa Zero e all'ostacolo del bilancio armonizzato. Per questo i Democrat insistono sul dialogo con forze capaci di contribuire alla rinascita, Mibact, Regione e Fondazione di Sardegna. Ma serve innanzitutto l'interfaccia con gli operatori del settore, in difficoltà già prima ai tempi del pre-coronavirus e che ora affrontano la fase 3 con il pericolo di dover chiudere tutto. Occorrono spazi, chiedono i DEM, dove allestire le attività e anche strutture tecniche di proprietà del comune. Una minima spinta per permettere la ripresa degli spettacoli, fortemente condizionata dalle linee guida regionali e governative. Le forze umane e i talenti non mancano, servono a cornice rete per la ripartenza. Si è tenuta stamane nei locali della Copagri in Nord Sardegna in Sassari la presentazione del portale dedicato all'incontro fra la domanda e l'offerta per la manodopera agricola in Sardegna. Un'iniziativa di Paolo Ninniri e Tore Piana, rispettivamente presidente e vicepresidente di Copagri in Nord Sardegna, insieme al responsabile amministrativo e web dottor Massimiliano Scarzella. Il portale verrà gestito dalla società cooperativa CAE Consulenze Agricole Europa ed è già da oggi operativa online al sito www.caeuropa.it. Lo scopo dell'iniziativa è quello di dare la possibilità alle aziende agricole che cercano lavoro in agricoltura di trovare manodopera. Un'opportunità per tutti i disoccupati della Sardegna, giovani e meno giovani, di poter trovare uno sbocco lavorativo nell'isola e in un settore che nell'immediato futuro potrà offrire grandi opportunità. Oggi, a ferma Piana, un importante percentuale di manodopera agricola viene coperta da personale extracomunitario. A differenza di altri settori nel campo dell'agricoltura, le persone da occupare si trovano col passaparola. Ora Copagri del Nord Sardegna intende offrire un contributo gratuito, senza distinzione di appartenenza a religioni, colore politico, razza o altro, per favorire l'incontro fra chi cerca personale e a chi si offre come lavoratore nel comparto agricolo. La speranza, conclude Paolo Niniri, è che nell'immediato possa trovare accoglimento da parte del Governo nazionale il ripristino dei voucher in agricoltura, utilissimi nel passato. Siamo sicuri che l'iniziativa possa facilitare da oggi a fine anno almeno mille assunzioni nel campo agricolo. Si è tenuta a Sassari il 2 giugno la cerimonia per la Festa della Repubblica, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio e dall'aperto, nel cortile del Palazzo della Provincia. La Prefettura ha organizzato l'evento in collaborazione con i docenti e gli allievi del Conservatorio Canepa di Sassari, che hanno arricchito l'evento con l'esecuzione di diverse musiche. Presenti alla celebrazione, le rappresentanze simboliche delle autorità del territorio, del sistema sanitario regionale e dei medici della sanità militare. La partecipazione pubblica era consentita online, con una registrazione video pubblicata sul sito web della Prefettura e del Conservatorio della Città. Un video che ha mostrato alla cittadinanza non solo la cerimonia, ma anche le storiche stanze di Palazzo Sciuti e gli alloggi della Regina, un vero patrimonio artistico e architettonico. Durante le pause musicali, la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana conferita dal presidente Sergio Mattarella ai cittadini che si sono distinti per meriti nei confronti della Repubblica. Questa serata, oltre al profondo messaggio istituzionale, ha dichiarato il prefetto Maria Luisa D'Alessandro, vuole essere anche un'occasione per guardare a quel futuro di normalità che tutti speriamo arrivi presto. Un'occasione per mostrare che la cultura e l'arte possono ancora vivere, invitando tutti alla prudenza, ma non certo alla paura che paralizza ogni azione. Questa ricorrenza ci offre l'occasione per rivolgere un pensiero a quanti in questo periodo ci hanno lasciato e i loro cari, ma ci consente anche di condividere la speranza in un domani che valorizzi i sacrifici imposti da questa emergenza.